Iiii Armada 2526 questo video lo so già che farà di uno schifo che più totale non può essere però sono in condizioni davvero terribili fa un caldo boia, ci sono i marocchini che fanno casino all'esterno è sera tardissimo, non si sente l'audio teniamo basso e in più Fraps non registra ovvero registra solo la mappina ma vediamo poi la mappina ci buttiamo subito su New Game facciamo una partitina veloce, rapida, un pochino come funziona la faccenda due giocatori, molto easy ok, ci ha creato la mappina intanto vi faccio vedere la caccata di Fraps che praticamente vedete i numerini i numerini qua, cioè qua, eccoli là e praticamente Fraps registra solo quella minimappa se io sposto il mouse in un punto non di interesse si neanche compare e quindi dobbiamo registrare in questo modo oscuro allora intanto Armada 2526 è uno strategico però al contrario di I-World che è, come dire, già in tempo reale questo qua è a turni a noi, vediamo qua a destra la lista dei pianeti che adesso possediamo la base, adesso abbiamo una base e un outpost sulla base che noi adesso andiamo a zoomare eccola qua non so se si vede possiamo zoomare, non si legge però vediamo il pianeta con la stella che brilla doppio clic si apre questa ottima schermatina che è la schermatina della gestione in cui andiamo a mettere in coda le nostre strutture le strutture tecnologiche per esempio partono da un colonist workshop poi shipyard poi abbiamo le miniere abbiamo entertainment ah, la sicurezza poi light missile e questo space marines ok se clicchiamo qua vediamo l'albero tecnologico la genealogia della tecnologia partendo dal colonist workshop si arriva a light industry e tutte le altre cose ok quindi mettere in coda prima di tutto vediamo qua quanto ci mette due turni due turni questo è il nostro denaro se clicchiamo ah ecco vedete qua ci sono delle informazioni importanti su ogni singolo pianeta possiamo vedere gli introiti monetari le spese la velocità la popolarità la sicurezza la crescita le infezioni se clicchiamo qua vediamo la lista adesso già abbiamo già di partenza qualcosa la lista delle unità ovviamente di volo presenti su quel pianeta hack ship trasporti devastatori scout eccetera a questo punto selezioniamo anche il nostro outpost perché anche il nostro outpost può mettere ecco per adesso non lo fa si vede che ci vuole uno space marine ecco mettiamo qualcosina no per adesso questo non mi fa fare un cavolo allora l'altra cosa ovviamente è l'esplorazione del pianeta adesso vi dezoomo tutto mi sposto vedete quanti cavolo di pianeti qua ci sono ci sono solo due giocatori io e l'avversario ma l'avversario chissà dove è nascosto in questo casino quindi ovviamente per procurarsi risorse magari ci saranno anche dei nemici strani che arriveranno da chissà dove la cosa importante è prima di tutto l'esplorazione dei pianeti anzi delle stelle con pianeti sconosciuti ok quindi doppio clic destro vedete doppio clic destro selezionando la base e compare questi segmenti che ci indicano in quanti turni i nostri mezzi arriveranno a destinazione e quindi schiacciando qua sotto and the turn passiamo al turno successivo ecco il movimento avete visto che hanno fatto un segmento e quindi non vi teglio con queste cose il gioco è veramente molto molto di più molto io queste esplorazioni spaziali e soprattutto a turni più che in tempo reale a turni mi piace veramente un casino quindi un saluto dalla mappina registrata da fraps qua c'è una capatina ma anche no ok guarda questi marocchini guardateli guardateli ecco questi qua sono i soliti imbecilli che rompono i coglioni a mezzanotte ti dice tanto tu sei in piedi che stai giocando va bene però io vedo le cose anche in prospettiva di coloro che sono già riposando e qua di sera dici c'è un po' di casino ma c'è molto movimento c'è casino c'è trambusto ci sono veicoli continuamente tutte le ore c'è un sottopasso dove passa qua tutta l'umanità passa di sottopasso cioè passa quello che vuole andare sotto ma non so e beh comunque comunque c'è casino e il casino è incrementato da questi qua che magari qualche giorno vi faccio vedere qualche truschino di passaggio di droga che si fanno qua vi faccio vedere come funge il passaggio di droga è vari quindi qua dall'alto vedo tutto quindi quindi so già individuare gli spaziatori giusti eccetera ok quindi da armada 2200 2526 e da porta palazzo da porta palazzo e tutto e tutto mi 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 Grazie a tutti.